Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un attimino che abbasso la sedia. Eccoci qua ragazzi, che dire, per commentare un attimino i gironi di Champions League dell'Italiane ma anche degli altri gironi, poi magari farò anche quelli di Europa League, che spero di farli uscire oggi. Spero che vi piacciono ragazzi, come sempre per poter riuscire ad aiutarmi in modo gratuito vi invito a lasciarmi un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanellina perché per voi non è niente ma a me veramente aiuta molto per far crescere l'organismo. Quindi ve lo chiedo sempre, anche se non lo guardate fino in fondo, un like lì, così, innocuo. A parte di scherzi ragazzi, grazie per il supporto come sempre, questo ormai lo dico in ogni video e lo continuo a ripetere perché veramente sono qua a far video, a contenuti e grazie a voi, ma non è una frase predefinita ma è veramente così. Qualsiasi creator vive del proprio pubblico e delle persone che lo seguono e che ovviamente condividono la sua opinione, la propria opinione. Che dire ragazzi, partiamo subito, però partiamo subito in ordine dal girone A. Il girone A, Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers, che fatalità c'è un italiano nel girone A che è il Napoli. È un girone tosto, ma penso che ce ne siano di tosti più che altro per l'italiana e quindi lo vedremo più avanti. L'Ajax è una squadra forte, ma che allo stesso tempo è costruita di molti giovani, quindi di esperienze in Europa ne ha, ma ne aveva forse di più nel passato, è passato molto molto remoto. Il Liverpool, che sappiamo com'è, del Liverpool però occhio perché deve ancora igranare, l'abbiamo visto in Premier League come sapere, poi vabbè è il Liverpool in Europa League e tutt'altra cosa, magari quest'anno si concentrano solo alla Champions, che hanno le potenzialità per vincerle. Napoli, arriva il Napoli, la nostra italiana, io apro parentesi, io spero che ai girone passino tutte le italiane, sinceramente lo dico sul serio anche Inter, Milan, Juve, quello che è, sapete il modo in cui la penso nel calcio, e lo continuo sempre a ripetere che sono un tifoso diverso. E i Rangers, allora, per il Napoli, quindi parlando in questo caso per il Napoli e per il Liverpool, io spero passino Napoli e Liverpool perché ho simpatia per il Liverpool in Inghilterra, è difficile per il Napoli, soprattutto Liverpool e Ajax, io penso che Liverpool se ne andrà prima da sola, e il Napoli si trova a giocare con l'Ajax, che se la può giocare, perché se poi anche va via Anthony, che lo vuole, non mi ricordo chi lo vuole, il Manchester United per 100-120 milioni, e si indebolisce l'Ajax, quindi il Napoli come sta crescendo potrebbe avere le sue carte per poter passare il turno come seconda. Occhio al Rangers perché andare a giocare là in Scozia, giusto? Sì in Scozia non è facile, lì non è facile, là su un tifo molto forte, come quasi quello napoletano, quindi occhio. Girone B, girone quindi per me passa qua a Liverpool e gli do una chance al Napoli. Girone B, Porto-Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges, ovviamente Club Bruges lo lasciamo giù, se la giocheranno, ma bello combattuto anche, perché occhio lì, Porto-Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, secondo me fino all'ultima non si sa chi arriva primo o chi arriva secondo, dovrei passare l'Atletico Madrid e io gli do una chance all'Everkusen, secondo me il Bayer Leverkusen la può passare il turno come seconda. È molto equilibrato, a me piace, a molti non piacciono, ma a me quel girone lì, il girone B piace. Passiamo subito al girone dell'Inter, Bayer Monaco, Barcellona, Inter e Victoria Pilsen, che erano lì a festeggiare i giocatori del Victoria, cioè ritrovarti così da giocare ogni tanto dal Champions League, ma da giocarti più che altro Europa League e Conference League ormai, perché prendiamoci chiaro una squadra, il Victoria Pilsen, da quelle competizioni lì, trovarsi in un unico girone, Inter, Barcellona e Bayer Monaco sicuramente, è bello perché per loro te la vai a giocare. Bayer Monaco, Barcellona e Inter, allora io da interista crack non ho paura, sinceramente non ho paura, sì vai a giocare a Monaco e a Barcellona saranno molto difficili, ma se ti vieni a giocare qua in casa non ho paura di nessuno sinceramente, sarà molto decisiva anche le partite contro il Victoria Pilsen e contro il Barcellona, cioè contro il Victoria Pilsen non devi perdere né punti qua né punti là, perdi i punti col Victoria Pilsen e ciao non hai più chance. Bayer Monaco credo primo e io ho fiducia ragazzi, toccatevi interisti, secondi, per me è secondi l'Inter, per me riesce ad arrivare secondo l'Inter, anzi no, ero stato scaramantico nei video di TikTok, quindi vabbè, chi arriva da TikTok mi ha fregato, infatti sono stato scaramantico e non volevo, ok, però il Barcellona lo puoi battere, secondo me il Barcellona lo puoi battere e se lo perdi perderai l'ultima giornata all'ultimo di nuovo, e andrai in Europa League. Girone D, Eintracht, Francoforte, Tottenham, l'Eintracht è una squadra, Tottenham è un'altra squadra, Sporting e Olympic Marsilia, questo è un bel girone crack, questo è un bel girone, perché il Francoforte è forte, vinto l'anno scorso l'Europa League, il Tottenham, sappiamo la squadra di Conte come sono chiuse, che ripartono molto in contropiedi, in Europa non è che siano sempre, andate bene comunque le squadre di Conte in Europa, lo Sporting Lisboa, vabbè, ci sta, e il Marsilia, quando vai a giocare a Marsilia, non è facile per nessuno crack, perché hanno una tifoseria patesta, questo secondo me è il girone più equilibrato, se non sbaglio, questo è quello dell'Atletico Madrid. Passiamo al Milan, l'altra italiana, Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabra, qua ho poco, sinceramente forse il Salisburgo potrà mettere un po' di pepe, ma secondo me Milan e Chelsea, così. Milan e per me passano primo il Milan e secondo il Chelsea, io ho fiducia nel Milan. Real Madrid, Lipsia, Shakhtar Donetsk, Celtic, gruppo F, qua neanche stiamo a commentarlo ragazzi, Real Madrid è primo, ha pieni punti, e secondo se la gioca il Lipsia, secondo me, occhio con la trasfetta in Scozia del Celtic, niente di che. Anche qua gruppo G, Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenhagen, Manchester City primo, secondo se la giocano Borussia Dortmund, Siviglia, e io se ti devo scegliere tra una di questi due, al momento la vedo un attimino un po' più in forma, il Siviglia, cioè un po' più completa per l'Europa, diciamo, ma il Borussia si gioca le sue carte ugualmente, Graak. Ultimo, che è il girone, anche un altro bel girone, Paris Saint-Germain, Juventus e Benfica, Maccabi Haifa. Allora, lasciamo stare il Maccabi Haifa, che tanto va lì, è come il Victoria Pilsen, ai Paris Saint-Germain, Juventus e Benfica. Per la Juventus, in questo caso qua, dovrà stare molto attento al Benfica. Paris Saint-Germain, purtroppo, ragazzi, secondo me fa due vittorie il Paris Saint-Germain, sia in casa che fuori casa della Juventus, sia in casa della Juventus, che sia al Parco dei Princes, al Parco dei Princes, e quindi passerà per prima. Occhio alla Juve, che se la deve veramente sudare con il Benfica, se questa Juve qua, se poi ti arriva Leandro Paredes, è arrivato Milik, ti ritorna Di Maria, allora lì non ci sono chance, ma con questa Juve qua, senza Di Maria, che è nel momento infortunato, senza un cattrocampista come Paredes, o qualche altro cattrocampista, e senza gioco, occhio al Benfica, occhio al Benfica, per questo vi dico, Paris Saint-Germain, e io ho fiducia comunque nella Juve, perché comunque è la Juve, e ti metto Juve seconda. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, secondo voi, chi non andrà prima o seconda, spero il video vi sia piaciuto, adesso vi tirerò fuori anche un video sull'Europa League, dei due romani. E niente ragazzi, via il full, sempre papà, grazie per il supporto, vi invito sempre a lasciare un commento, un like, condividere con gli amici, e attivare la campagna in Lina, e viva il full del siembro papà, al prossimo video, ciao!